Abbiamo degli estremismi da un lato e dall'altro che evidentemente dobbiamo superare, ma c'è un grande spazio politico al centro, dobbiamo unire non solo il NCD, l'UDC, ma tutte le forze moderate che stanno dietro i patti civici per fare una grande forza moderata che possa obiettivamente essere un riferimento politico in tutto il contesto, sia nazionale che regionale. Io sono critico rispetto all'operato perché sembra una macchina ferma dove il conducente si è dimenticato di inserire la marcia. Secondo me andrebbe chiaramente seriamente valutata perché così non si va avanti e i siciliani non ne possono più di una situazione di fermo biologico come quella che sta determinando questo governo. Sicuramente si deve aggregare con altre forze moderate per guardare ancora di più a costruire una forza maggioritaria di governo.